Ecco, sarà un mese intenso per voi, cerchiamo di riassumere per quanto possibile un po' il programma dei prossimi eventi. Sì, sarà un mese intenso, sono stati mesi intensi di attività, questo è il secondo anno che collaboriamo con l'Associazione Insofia, con il Castello, la Filosofia e la Torre, con Raffaele Mirelli perché l'anno scorso già abbiamo tenuto un evento nell'ambito del Festival della Filosofia, quest'anno invece abbiamo tenuto in collaborazione con Raffaele e con molte altre associazioni isolane, mi piace ricordare la Borsa Verde, anche la UILD mi ci ha aiutato, soprattutto siamo usciti al di fuori del confine dell'isola rispetto all'anno scorso perché sono state coinvolte realtà come Amnesty International, alcuni forum dei giovani campani, infatti ringrazio soprattutto il forum di Apice e ci saranno tantissimi eventi, mi preme ricordare soprattutto gli eventi che ci saranno il 29 di settembre, domenica 29 di settembre ci sarà una sorta di tappa ciclistica con la collaborazione anche di Mario Goffredo e di Cicliscotto in cui ci saranno alle varie tappe delle fermate, si parlerà dell'educazione stradale, delle problematiche legate anche al traffico di ischi eccetera, quindi un evento bellissimo e successivamente ci sarà un'installazione sempre a Piazza degli Eroi sulla plastica appunto per voler scuotere le coscienze riguardo a quest'altro tema molto importante che è quello della plastica, dei rifiuti a mare eccetera. Ecco sarete impegnati quasi tutte le domeniche di fatto nel prossimo mese ma al di là di questo evento, spieghiamo anche brevemente un po' la vostra attività, lo scopo della vostra attività. Sì, noi come forum dei giovani diciamo ora ci avviamo già alla fine del secondo anno anche di attività e siamo attivi sul territorio insieme al comune di Ischia in ambito rafforzativo di tutte le associazioni dell'amministrazione stessa, infatti abbiamo collaborato veramente con tutte le associazioni a scopo di lucro o meno, mi piace ricordare la collaborazione che abbiamo avuto anche con la Prologo Sant'Alessandro per cercare, abbiamo tentato infatti ultimamente di recepire questo finanziamento del MIBAC, purtroppo senza riuscirci, però è nata comunque una bellissima collaborazione con il dottor Napoleone. Abbiamo collaborato nell'ambito del Film Festival, infatti ringrazio Michelangelo Messina, anche in questo caso per due anni abbiamo fatto parte delle giurie, diciamo di scenari campani e dei cortometraggi quest'anno, quindi diciamo siamo attivi in qualsiasi campo che riguardi soprattutto l'universo giovanile.